il suo destino era di aspettare Sanremo 2022 Elisa ha poi svelato anche l'uscita di un doppio album che conterrà canzoni in inglese ed in italiano al quale sta lavorando oramai da due anni e come scrive lei stessa si spiegherà canzone dopo canzone video dopo video concerto dopo concerto Grazie